È acceso Enricchi, sta registrando? Sì! Frenz, Roby, Stefano, Andre, Fede, Stefano e Enricchi Andiamo! Sì! 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 Eccoci, al ripido Allora, sei sceso dall'altra, è imbrogliato Riccardo, eh? No, bisogna fare bene le paraguole Ma cittidi! Quando? Ne hai fatto un altro ripido Al ripido sono passato, l'altro l'ha fatto... Sì, vai, riscendi e ci sono due ripidi Stai dicendo Riccardo Tutti dalla parte bassa, queste passate Sì! Il ripido non l'avete fatto?